Aveva appena superato la revisione obbligatoria a motorizzazione il 19 maggio e aveva un tagliando programmato per la prossima settimana. Quindi, ripeto, la cosa molto strana è che era motore spento là in sostre. Ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco e un'ora di lavoro per domare le fiamme dell'incendio scoppiato nella parte posteriore di un autobus della CTV. Erano passate da poco le otto e mezza. Piazzale Roma, brulica di turisti e pendolari. I passeggeri di uno dei tanti autobus che si susseguono senza sosta nell'area segnalano al conducenti un forte odore di fumo. Poco dopo ci si trova a fronteggiare una situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il bus era in sosta, a motore spento e improvvisamente ha preso fuoco. Quindi quando è successa questa cosa qui, quello che noi pensiamo è che possa essersi per il calore del motore, voglio dire, probabilmente staccato un qualche manicotto di gasolio dell'alimentazione che il liquido sia finito su una parte ancora molto calda e abbia preso fuoco. L'autobus ora si trova in officina dove si cercherà di capire con esattezza cosa possa essere accaduto, pur con tutte le difficoltà che si potranno incontrare nell'analisi di un mezzo che è andato bruciato. L'autobus è del 2002, assieme ad altri 24, tra i più vecchi in servizio e per i quali è prevista la sostituzione entro fine anno. L'evento di stamattina ha provocato un grosso clamore a Venezia. Sono tantissimi veneziani mestrini che si servono della CTV. Voi si sente di dire qualcosa ai suoi utenti? Ma no, io credo che queste cose succedano, possono succedere. Lei deve pensare che noi solo dell'automobilistico ogni giorno abbiamo in circolazione più di 350 mezzi che fanno 5400 corse al giorno. Voglio dire che ci possa essere un guasto, soprattutto sui mezzi molto più vecchi della media, questo può succedere. La cosa importante è che non ci sia fatto male a nessuno e che non ci siano stati di questi problemi.